... Incidente nel pomeriggio di domenica 16 maggio, poco prima delle 16.30, inviare 25 luglio a Son Giusto Canavese, a scontrarsi un Alfa 156 e una Citroen C3. L'impatto è stato alquanto violento, tanto che la C3 si è ribaltata su un fianco fuori dalla careggiata. Sul posto sono intervenute le ambulanze del soccorso avanzato di Caluso e della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, i vigili del fuoco di Rivarolo e di Ivrea e i carabinieri di Aglie. Il bilancio è di due donne ferite, estratte dalle lamiere delle vetture e trasportata all'ospedale di Ivrea, una 38enne di Vusiliè, che era la guida della 156, e una 57enne di Volpiano a bordo della C3, accertamente al Vaglio dei Carabinieri. di Vaglio dei Carabinieri. di Vaglio dei Carabinieri.